Un progetto ambizioso che vuole coniugare arte e ospitalità turistica in una cornice di assoluto richiamo. L'idea nasce da un'amicizia recente ma che ha subito dato i suoi frutti, quella tra il proprietario della Country House Poggio Sant'Angelo di Cortona e l'artista e scultore Patrizio Zona. Si tratta in sostanza di un progetto che comincia quest'anno, anche se in una versione un po' ridotta, che però ha l'ambizione di volersi portare avanti per i prossimi 4-5 anni, durante il quale l'obiettivo finale è realizzare un parco delle sculture. Si svolgerà sostanzialmente ogni anno, avremo un simposio di sculture durante il quale 4-5 artisti e scultori verranno invitati a realizzare delle loro opere monumentali per realizzare appunto questo parco delle sculture. Ogni anno quindi questo progetto si chiama 6 mesi al poggio, durante i 6 mesi avremo la realizzazione sia delle sculture durante il simposio, sia anche la realizzazione dei bozzetti che poi nell'anno successivo verranno realizzati in misura monumentale. E sarà lo scultore napoletano Patrizio Zona che ha da poco più di un anno scelto Arezzo come suo buon retiro ad arricchire con personaggi e artisti il parco cortonese, sua anche la prima opera monumentale del parco. Le ambizioni sono grandi, sì perché io vorrei fare queste mostre di arti visive personali associate a degli spettacoli poiché conosco molti artisti di grosso calibre, però la mia ambizione è quella di fare una rassegna dove c'è sì la persona nota, l'artista molto importante, ma dare spazio anche a quelli che normalmente spazio non ne hanno perché non fanno parte di lobby, non fanno parte di... insomma è inutile che continui, si è capito. Quindi dare la possibilità a tutti di poter si esprimere poiché l'arte è un mestiere faticoso, io lo faccio, faccio lo scultore e so cosa significa, quindi questa è la mia ambizione di base. Una rassegna per il momento autogestita dallo stesso proprietario di Poggio Sant'Angelo che ha deciso di credere e investire nel progetto. Certo è ambizioso perché per fare una rassegna del genere ci vogliono dei fondi, questa anteprima di rassegna di sei mesi al Poggio è nata ed è continuata in questi tre mesi autogestita grazie al proprietario Alessandro Maresca che con le sue risorse ha creduto in questo progetto ed è diventato una semirealtà, però io non mi accontento, io sono un caparbio, sono un testardo e credo molto in questo progetto, credo nel posto che è bellissimo, credo nella regione, nel comune che sono altrettanto stupendi e quindi bisogna fare qualcosa di veramente bello. Ci sono già tantissime cose belle in questo territorio, ne vorrei aggiungere un'altra perla e abbiamo le capacità di farlo, ovviamente non ne abbiamo le risorse, quindi buon intendito e poche parole insomma. Siete partiti quest'anno con degli artisti di spessore. Sì, assolutamente, Patrizio Zona è la persona, è l'artista che oltre ad essere direttore artistico è anche un po' l'altra anima di tutto il progetto e lui ha realizzato questa prima scultura monumentale che inauguriamo questa sera con questo evento speciale in cui appunto De Caro e Antonio Norato rappresenteranno un tributo a Chet Baker e l'anno prossimo, ai prossimi anni avremo altri nomi altri artisti di rilevo internazionale che di volta in volta presenteremo. Sei mesi al Poggio si è aperta a maggio con la mostra di Aurelio Alabardi e la partecipazione dei musicanti del gruppo Macchia Mediterranea. L'ultimo appuntamento è il 30 giugno che ha visto protagonista l'artista Massimo Patroni Griffith con una sua personale e una serata dal forte impatto emotivo grazie alla pravura dei musicisti capitanati da Antonio Norato e la voce narrante del grande Enzo De Caro. Una serata sicuramente inusuale per Enzo De Caro. Per una serie di motivi, intanto aver portato lo spirito, la musica e i pensieri di Chet Baker fuori da un jazz club, averlo portato qui nella bella natura della Valdichiana, aver unito a questo un altro tipo di arti oltre a quello della natura, quello della scultura, ci sono spazi per delle idee e lo spazio che tocca a ognuno di noi anche in una serata estiva calda ma molto interessante per scambiare informazioni. E da Poggio Sant'Angelo l'attore De Caro lancia un monito importante per ricordare a tutti che le esperienze di mecenatismo come queste dovrebbero essere all'ordine del giorno. Noi abbiamo proprio perso questa idea, non bisognerebbe investire sulla cultura, la cultura dovrebbe essere considerata semplicemente una risorsa, non c'è bisogno più di pensare come un investimento fuori ordinanza, la cultura dovrebbe e deve rientrare in un paese civile, evoluto, come parte integrante, quindi le risorse per e dalla cultura dovrebbero essere una concezione molto più normale e abituale di quella che c'è, speriamo che ci arriviamo prima o poi.